Ssssshh, ti guarda, mi non parlo. Non c'è nulla, non c'è nulla. C'è nulla. Noi! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Grazie. Oh no, a me, a me, a me e Oh no, a me. Oh no. Esegno qui hai visto che quando ho avuto In genere, che con la resta si è razzata, è un'attunità. C'è qualcuno che mi piacciono per me, mi piacciono per me, mi piacciono per me.